Partite, in vantaggio si porta Memphrin con all'interno Isole e Olie, a largo anche Bronze Bombshell, seguono Rachevifera, ancora più indietro Common Black, in leggero vantaggio centropista Bronze Bombshell, in seguita all'interno da Isole e Olie, poi Memphrin, più a centropista Rachevifera con all'esterno Common Black. Bombshell è in leggero vantaggio nei confronti di Isole e Olie al suo interno, siamo ora nel tratto finale, Bronze Bombshell all'interno subisce l'attacco interno di Isole e Olie, ma sul palo Bronze Bombshell si impone su Isole e Olie al terzo posto Rachevifera nei confronti di Pegasus. Andiamo a rivedere le immagini con l'affermazione di Carletto Fiocchi in sella al favorito Bronze Bombshell, numero uno dello schieramento, al posto d'onore il numero tre Isole e Olie, al terzo il sei di Rachevifera, quindi uno tre sei, il probabile e officioso arrivo di questa ultima e sesta corsa da Lagnano.